A cinque anni dalla tragedia di Rigopiano, il sopralluogo effettuato questa mattina nell'area del disastro punta ad essere uno dei passaggi chiave del procedimento a carico dei 30 imputati. Gli esperti del Politecnico di Milano, nominati dal GUP Gianluca Sarandrea, insieme ai consulenti di parte della procura e degli imputati, hanno effettuato nuovi rilievi, soprattutto per rendersi conto di persona, dopo aver visionato foto e video, di quella che è la realtà dei fatti. Questi serviranno a chiarire in via definitiva la correlazione tra le diverse scosse di terremoto della mattina e la valanga del pomeriggio, che travolse l'hotel e mise fine alla vita di 29 persone. Il giudice per le udienze preliminari ha comunque deciso per un'ulteriore proroga, così la perizia dovrà essere presentata il 12 maggio e non più ad aprile, dunque in tribunale si tornerà con ogni probabilità a fine maggio. Il rinvio è sempre pesante, però se è necessario, ormai ne abbiamo sopportati tanti, sopporteremo anche questo sopra il luogo necessario, a detta di tutti gli esperti, noi abbiamo il nostro perito, speriamo che questo serva finalmente a porre fine a questa fase e ad andare avanti nella ricerca della piena verità, per dare pace ai nostri angeli, a noi e anche per lasciare in pace questa povera natura che a mio avviso prima è stata diciamo sfruttata in modo sbagliato e adesso rischia di essere strumentalizzata perché con uno sciame sismico in atto dal 24 agosto sentire che la colpa potrebbe essere il terremoto a me personalmente fa veramente male. Ma a mio avviso il terremoto o no non ha niente a che vedere con la mancanza di soccorsi perché loro chiedevano aiuto dalla mattina e sappiamo tutti la storia delle 88 chiamate di Gabriele d'Angelo, sappiamo delle mail, sappiamo tutto, quindi comunque la mancanza di soccorso c'è stata. Questo è il terremoto iniziato la mattina alle 10.25, da lì all'ora della valanga avrebbero potuto portarvi a tutti. Sarebbe bastato anche semplicemente ricorrere agli elicotteri senza grandi sforzi e senza tante fatiche.